Bella raga, eccoci ritornati con un nuovo video, scusate ma l'influenza la settimana scorsa mi ha fermato, non ho potuto fare video con Bologna, con l'Inter soprattutto Dunque Juventus batte Roma 2-0, una Juve cinica, direi cinica, che conquista il terzo posto Ha giocato forse un palleggio meglio la Roma, in fase di palleggio, credo pure in possesso palla, adesso le statistiche non le ho viste proprio sinceramente Comunque credo che il possesso palla sia stata a favore della Roma, ma una Juventus cinica, una Juventus che trova il gol intorno al tredicesimo minuto Con Cristiano Ronaldo che non segnava in campionato da tre partite, questa era la quarta e dunque ancora una volta non fa quattro consecutive Ronaldo dunque alla quarta, ci mette il sigillo con un bel tiro, praticamente un sinistro da fermo, rasoterra preciso dove Paolo Lopez non ci arriva Ma grande discesa lì di Alexandro che si beve con un dribbling cristante, dopo un pallone, un lancio perso, un lancio di Spinazzola Recuperato proprio dallo stesso Alexandro che fa una settantina di metri di corsa Poi la dà Morata, Morata la scarica dietro, Ronaldo che ha visto Sky 0,52 centesimi di secondo Stop e tira quasi da fermo, praticamente, trovando l'angolino giusto, irraggiungibile per Paolo Lopez La Roma che poi va vicino al pareggio con Brian Cristante, proprio un bel tiro a volo Oggi fasce da capitano per lui, Dzeko in panchina, entra a posto di Borca Majoral, ma sinceramente fa un colpo di testa che la butta fuori Ma nulla di più, su un cross di Bruno Perez poteva nascere un'altra occasione per la Roma La Roma ha fatto molto posto palla, ha fatto un bel palleggio, un bel gioco, ma non ha creato grandi occasioni per Cesni Cesni, grandi parate non ne ha fatte, Ronaldo che nel primo tempo prende anche una traversa sul tiro deviato dai Bagnez E Bagnez che poi ci riesce a fare l'autogol su due, azione costruita da due entrati, Quadrato e Kuluseski Quando la panchina poi fa la differenza alla fine, perché Quadrato imbecca Kuluseski che la mette a centro dove c'era sia Ronaldo E forse Cristante riusciva, anzi non era Mancini che riusciva forse a spazzarla, non diceva Ronaldo Però in scivolata si butta i Bagnez che la mette dentro per il 2-0 dove la partita poi si è chiusa praticamente Perché la Roma ha accusato un po' il colpo, ha attaccato, ma ha attaccato molto caotica Non ha fatto grandi occasioni, non ha fatto grandi pericoli per la difesa bianconera Non ci sono stati, un ottimo Giorgio Chiellini Grande partita anche di, bella partita di Rabiot, grande partita di Artur E Ronaldo che ha fatto il suo praticamente segnando e poi diciamo propiziando Comunque c'era anche sul possibile 2-0 e prendendo una traversa Ieri Ronaldo ha fatto 36 anni Bene, terzo posto conquistato con una partita in meno Chissà quando la recupereremo quella con Napoli E ora testa a martedì contro l'Inter perché lì non è assolutamente fatta Anzi, l'Inter rientrano a Kimi e Lukaku che non sono gli ultimi arrivati Quindi testa a martedì e poi a sabato prossimo con Napoli Io vi auguro una buona serata, sempre fino alla fine, forza Juve Ciao a io